Qual è il seminario che più di tutti vi è piaciuto e perché? Di sicuro l'incontro con il professore Angelini sul marketing, che è una tematica che mi riguarda molto e che spero di fare anche all'università il prossimo anno e negli anni a venire comunque. Per me è l'incontro con il traduttore Noseda, il professor Noseda, in quanto è stato molto esaustivo e ha convolto tutta la platea dell'Aula Magna e è anche una persona di un certo rilievo. Si è svolto anche quest'anno il Valturio Economia 2019, l'evento formativo che alla sua seconda edizione è organizzato dall'Istituto Tecnico Economico Statale Roberto Valturio di Rimini. Con una formula del tutto nuova ed innovativa, la scuola riminese guarda al futuro e propone per la seconda volta una settimana in cui vengono completamente stravolte le classiche lezioni in aula con i propri docenti. L'intero istituto per una settimana si trasforma in un campus universitario con proposta di seminari ed insegnanti del tutto nuovi. Ho seguito un corso riguardante la Libia, soprattutto per il fenomeno migratorio e il terrorismo e penso che quello sia stato veramente tanto interessante anche perché è stato tradotto da una professoressa universitaria proveniente da Milano. Ho effettuato un corso con un funzionario della Polizia di Stato di Rimini che appunto lui si occupa anche insieme all'Interpol di evidenziare sia i traffici monetari illegali all'interno della comunità europea ma anche all'interno dell'ambiente a livello generale. Durante la settimana dell'economia ho partecipato a vari corsi appunto riguardanti la materia principale della mia scuola che è l'economia aziendale e ho partecipato principalmente a dei corsi legati alla psicologia e al marketing. I corsi che ho seguito quest'anno sono molteplici però quello che mi ha interessato di più è stato le sette regole del successo con Andrea Galli e oggi andrò ad ascoltarlo di nuovo con le 19 psicologie del marketing. Un progetto per quanto riguarda la cooperativa sociale e un altro incontro invece è stato quello tenuto da Randstad in cui ci è stato un po' spiegato come va svolto un colloquio di lavoro e come presentare un curriculum vita e anche quello penso che sia uno sbocca importante per il nostro futuro. La vera novità è la partecipazione volontaria degli studenti che assecondando i propri interessi e le proprie attitudini scelgono da soli quali e quanti corsi frequentare compiendo una scelta personale e responsabile guidata dalle aspirazioni che hanno per il proprio futuro. Ci piace sottolineare che come l'anno scorso anche quest'anno è stata proposta e potenziata come numero di incontri tutta una serie di incontri dedicati ai temi dell'etica, dell'economia e delle finanze. Questa è proprio una direttiva che noi ci stiamo dando come istituto, ci piace che sia una delle nostre connotazioni. A fare alcune lezioni per introdurre il tema che a me era caro, che insegno storia, quello dell'interdisciplinarità, cioè riuscire a creare un connubio tra storia ed economia, visto che questa era la settimana dedicata all'economia. Portiamo questi nostri 23 anni di esperienza sul campo per fargli capire che c'è anche questo modello che cerca di coniugare il modello imprenditoriale con il modello di inclusione sociale. Ci sono ragazzi che sono in età di crescita, che fra poco quelli di Quinta faranno delle scelte anche di studi universitari, quindi fargli capire che ci può essere anche questo sbocco, qui siamo una ragioneria sul tema economico, però che c'è anche un'economia sociale che si può sviluppare, che può avere bisogno anche di loro nel futuro, penso che sia importante la nostra testimonianza per anche aiutarli nelle scelte future. L'obiettivo è quello di rispondere a quelle che sono le esigenze culturali dei ragazzi, sempre però in un ambito che è quello economico, giuridico, finanziario, che è la nostra anima, la nostra struttura culturale. Una settimana di conferenze, incontri, laboratori, approfondimenti su tematiche economiche che grazie anche alla presenza degli esperti provenienti dal mondo delle imprese, delle professioni e delle associazioni coinvolge gli studenti perché si sentono protagonisti delle proprie scelte. Questo campus che è innovativo, diciamo anche a Rimini come tipologia di offerta formativa, vi ha aiutato in qualche maniera per la vostra scelta universitaria? Sì, sì, assolutamente. Io ho scelto la mia facoltà universitaria che sarà probabilmente Economia e Management grazie all'incontro appunto che ho detto che mi è piaciuto molto, quello sul marketing. Non solo direi per l'università, per la scelta universitaria, ma anche forse per qualcuno che non vuole intraprendere il percorso universitario, ma intraprendere la carriera lavorativa dopo ragioneria. Ci sono state molte aziende in questa settimana che hanno presentato appunto delle start-up che fanno sì che chiunque possa iniziare a lavorare dopo la scuola superiore. Quasi 90 seminari diversi che affrontano aspetti distinti della cultura economica, tutti in armonia con altri ambiti del sapere, come la finanza, il marketing, la geopolitica e l'etica. A questo si aggiungono approfondimenti e conferenze tenute da docenze di rilievo che danno a questo evento scolastico un prestigio di livello nazionale. Tutte le proposte rientrano nell'attività di alternanza scuola-lavoro. È un'iniziativa sicuramente molto interessante e innovativa per la scuola sia riminese sia italiana perché permette a noi studenti di poterci relazionare con imprenditori, con funzionari di Stato, comunque molto importanti a livello territoriale e nazionale. Capire per esempio quale sono le nostre attitudini e ciò che ci interessa di più sostanzialmente. Sicuramente è stata molto utile in quanto io e all'università voglio intraprendere un corso di marketing e management per cui è stata utile per approfondire anche questo argomento. Rispetto a quello che hai fatto e frequentato, ti è servito per fare delle scelte già adesso che sei al quarto anno per il tuo studio futuro? Sì, mi ha spinto a scegliere e ad elencare tra le mie possibili università anche quella di psicologia in quanto le persone e il loro modo di comportarsi sono un filo conduttore che legano l'economia e tutto il mercato del marketing. Ed è una realtà completamente diversa da quella scolastica, quindi a parer mio è un'esperienza utile ma soprattutto anche creativa e divertente. Si tratta di un evento ben organizzato che rappresenta nel panorama delle scuole riminesi e non solo un vero esempio di buona scuola con partner d'eccellenza come Banca Etica, Rastad, Figli del Mondo, Lions Club. Sono sensibili ai temi dell'economia, dell'etica e convinti della funzione sociale ed educativa che deve avere una scuola al passo coi tempi. Una scuola capace di stimolare senso di responsabilità nei ragazzi, come per il gruppo di oltre 40 studenti che hanno accettato di far parte dello staff organizzativo e che per tutta la settimana hanno coadiuvato il prezioso lavoro dei loro insegnanti. Fate parte anche dello staff organizzativo, quindi avete dato un contributo notevole. Magari se prima facevate tardi a scuola questa volta, in questa settimana vi siete dovuti svegliare un po' prima? Sì, assolutamente. Bisognava essere a scuola in un orario comunque decente rispetto agli altri giorni perché certi relatori arrivavano molto presto nelle varie giornate e quindi la sveglia è stata puntata prima. Una con i ragazzi sono entrati in uno staff di organizzazione e hanno dato un contributo veramente notevole. La settimana dell'economia si è potuta svolgere anche loro e credo che anche questo sia significativo. I ragazzi rimangono coinvolti in qualche cosa che li entusiasma. Ho lasciato moltissimo fare tutta l'organizzazione, questo è un po' un punto di forza della scuola perché ciò rigenera anche energie all'interno del corpo docente. Cioè trovarsi in un mondo così dinamico e essere fondamentalmente gli artefici di questo mondo dinamico significa poi prepararsi meglio per quelle che riguardano le proprie discipline e quindi avere un incremento culturale, avere un grosso collegamento con il territorio ma non solo. E dall'altra parte però i docenti si sono messi in gioco in prima persona in tutta un'organizzazione che è fantascientifica. Perché qui in questo momento ci sono 50 esperti che stanno coprendo tutte le aree che i ragazzi appunto hanno scelto.